Si è aperto a Parma Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione. L'inviato Massimo Mignanelli è andato a caccia per noi di curiosità. Abbiamo fatto dei ravioli, che è un piatto tipico sardo, farciti con dei carciofi, fatto con della botarga e dei pomodorini. Piatti regionali, ricette uniche, prodotti alimentari a denominazione d'origine. A Parma si celebra l'eccellenza del Made in Italy, il meglio del settore agroalimentare. E a Cibus Corsano sono numerosi quei prodotti che tengono conto della continua domanda salutista da parte del consumatore ed anche di chi ha intolleranze alimentari. Ed allora ecco i consigli per un pranzo leggero. Risotto anche veloce con delle verdure che consente al consumatore di stare leggero e mangiare in tempi rapidi. E dalla Sardegna il pecorino anticolesterolo. Abbiamo cresciuto la naturale quantità di CLA che per l'appunto combatte il colesterolo cattivo per cui finalmente possiamo dire che esistono dei formaggi che fanno bene. E che ne dite dell'olio utile contro le malattie della terza età? Contiene vitamina D, vitamina K e coenzima Q10. E come condimento un pesto particolare? Tutti gli ingredienti sono biologici quindi è un prodotto biologico al 100% e poi non contiene glutine per cui è adatto anche a persone con problemi di celiachia. C'è anche il prosciutto crudo con meno sodio e più potassio e sulla certificazione delle nostre eccellenze agroalimentari ecco il nuovo Atlante Quali Vita. Sono 205 fra DOP e GPS e TG. Sono le aziende italiane che fanno la qualità.